Ciao a tutti voi da Rosi, siete pronti per un viaggio attraverso le grandissime occasioni di Elite Car? Noi sì e siamo in compagnia naturalmente di Alberto. Ciao Alberto! Ciao Rosi e un ben ritrovati a tutti. Prima di iniziare con le occasioni di questa sera, vi ricordo che parleremo non solo di Mercedes Smart, perché voi ormai ci conoscete per questi due prodotti principalmente, ma parleremo anche di Volkswagen Audi, di conseguenza seguiteci fino alla fine perché ci sono tante importanti novità. Prima di andare quindi a presentarvi le occasioni, vi ricordo che siamo a Magenta in Corso Italia 40, veramente molto facile da raggiungere se prendete la Milano-Torino, uscite a Marcallo-Mesero e ci trovate sul lato destro della carreggiata. Direi di non perdere tempo e passare alle vetture di questa sera. Andiamo! Iniziamo subito con classe A, quindi ormai la conoscete, una vettura veramente fantastica, un design sportivissimo, veramente un'ottima abitabilità, accessoriatissima, quindi parliamo di cambio automatico a doppia frizione, cambio manuale a sei rapporti, completa di ogni accessorio, dal navigatore, fari full LED e anche avvisatore di distanza, quindi collision prevention assist, radar che vi avvisa se non siete in distanza di sicurezza. E molto altro ancora, vetture vi ricordo aziendali con pochissimi chilometri provenienti dalla Germania, vengono ritargate in Italia, seguono la garanzia casa madre, quindi garanzia ufficiale Mercedes in tutta Europa. Possibilità di estensione e garanzia del terzo e del quarto anno, quindi a un prezzo veramente conveniente. Cosa dire di più? Motorizzazione tutte rigorosamente Euro 6 a partire da 19.800 euro. Tre allestimenti fantastici, X-Secoti Sport e Premium, quindi vi aspettiamo per classe A, venite a provarla perché veramente ne vale la pena. E da classe A ci spostiamo a parlarvi di classe B, ormai una vettura veramente eccezionale che conoscete in tantissimi, una vettura molto adatta per la famiglia, quindi un'ottima abitabilità e un ottimo vanobagagli. Per quanto riguarda la trazione, sia come classe A e trazione anteriore, si può avere sempre con cambio manuale a sei rapporti o cambio automatico a doppia frizione. Motorizzazioni tutte rigorosamente Euro 6, da diesel a benzina con diverse potenze. Vi ricordo sempre vetture aziendali con pochissimi chilometri, certificati dalla casa madre, le vetture vengono tagliandate dalla casa madre e poi dopo vengono comunque spedite in Italia con tagliando certificato che noi diamo al cliente al momento della consegna. Per quanto riguarda la promozione su queste vetture, sono prezzi a partire da, anche in questo caso, 19.800 Euro. In più si può avere anche l'IVA agevolata al 4%, visto che vanno rifatturate, si può fatturare al 4% perché purtroppo avesse questa esigenza. E direi di passare al segmento successivo. E continuiamo con l'occasione di questa sera e vi parliamo di GLA, crossover di casa Mercedes, trazione anteriore ma anche 4x4, cambio manuale a sei rapporti ma anche cambio automatico a doppia frizione, tre allestimenti, executive sport e premium, vari colori, vi ricordo vetture aziendali con pochissimi chilometri, certificati dalla casa madre con tanto di garanzia ufficiale. Prezzi a partire da 26.900 Euro più spese di immatricolazione, perché le vetture vi ricordo che devono essere rimatricolate con targa nuova secondo anno e mese corrente. Sono fatturabili, di conseguenza anche libero professionista all'azienda, gore di questa agevolazione e anche IVA agevolata al 4%. Supervalutazione del vostro usato ma è anche rotamazione. Ed ora passerei al segmento successivo. Continuiamo a parlarvi di Mercedes e quindi passiamo in categoria CLA. In questo caso la mia sinistra è il modello Shooting Brake ma adesso fra poco andremo a vedere anche il modello Coupé. Vi ricordo vetture aziendali con pochissimi chilometri e certificati dalla casa madre, con tanto di tagliando effettuato appunto da casa madre. Motorizzazione di benzina diesel, tutte rigorosamente anche in questo caso Euro 6, con cambio manuale ma anche cambio automatico a doppia frizione. Fanelleria full LED, completa di ogni accessorio, a partire da 24.900 Euro. Quindi proseguirei e vi parliamo quindi del modello, vi facciamo vedere anche il modello non solo Shooting Brake ma anche Coupé. Sempre stesso discorso legato alle vetture aziendali con pochi chilometri, sempre certificati, quindi ogni tipo di accessorio, tetto apribile, comando vocale per la navigazione e così via. Quindi veramente vetture complete, sempre a partire anche per il modello Berlina da 24.900 Euro. Possibilità vi ricordo anche di rottamazione e comunque supervalutazione del vostro usato e dei tassi agevolati per quanto riguarda finanziamenti e leasing. Proseguiamo con il resto della gamma ed entriamo nel mondo classe C. In Elite Car disponibili anche vetture aziendali appunto con pochissimi chilometri, sia Berlina che Station Wagon, complete di ogni accessorio, dal cambio automatico al fari full LED anteriori e posteriori, portellone elettrico posteriori in apertura elettrica, piuttosto che interno in pelle, interno eco pelle tessuto, climatizzatore automatico, radar di serie, quindi veramente vetture complete al 100%. Anche in più, sempre sensore di parcheggio anteriore e posteriore con sistema Park Assist, quindi sistema che parcheggia automaticamente la vettura da sola in automatico. Di conseguenza a partire con prezzi fantastici da 24.900 Euro. Quando ovviamente io parlo di prezzi di partenza, sto parlando di prezzi relativi alla cilindrata d'entrata, con modello comunque ben accessoriato, però in questo caso è benzina. Il diesel costa qualcosina di più, comunque sicuramente venite a trovarci perché anche in classe C troveremo la vettura che fa per voi. Sempre stando nella categoria C, quindi dal stesso pianale di costruzione, deriva il nostro SUV che ormai conoscete benissimo, classe GLC, disponibile anche in questo caso aziendale con pochissimi chilometri, sempre certificato il chilometraggio e il tagliando effettuato dalla casa madre. Motorizzazione diesel e benzina, cambio automatico, trazione 4x4, completo di ogni accessorio, vetture a partire da 44.900 Euro. Ed ora continuiamo con le occasioni di questa sera, vi parliamo di nuova classe E, ultima nata in casa Mercedes, con un propulsore di nuova generazione, 1950 cm3, per una potenza che va da 150 a 194 CV. Euro 6, con dei consumi ridottissimi, disponibilità in Elite Car, per quanto riguarda la versione berlina ma anche station wagon. con vari colori e allestimenti, cambio automatico e veramente ogni tipo di accessorio presente sul mercato. Quindi vetture veramente seminuove, con pochi chilometri, certificato il tagliando dalla casa madre. In questo caso prezzi a partire da 34.900 Euro, vi ricordo una super valutazione del vostro usato, anche rottamazione, e quindi venite a trovarci perché è veramente classe E, è da provare in strada, perché vi saprà sicuramente trasmettere delle emozioni uniche. Alberto, parlavamo ai nostri amici di una grande novità nella scorsa puntata, adesso abbiamo fatto dei bei passi in avanti, ce ne vuoi parlare? Assolutamente sì. Allora, avete visto le immagini dell'altra puntata, quando il capannone era ancora in allestimento, come potete vedere le immagini stanno scorrendo in questo momento, adesso l'officina è operativa, carrozzeria operativa, quindi stiamo finendo diciamo la parte relativa appunto al service eccetera. A breve verrà fatto un salone, anche in questa struttura che state vedendo, invece l'immagine a seguire, come potete vedere, questa è la nuova struttura Volkswagen che verrà ormai pronta più o meno entro ottobre, insomma ci auguriamo che i tempi, comunque stiamo lavorando sodo per mantenere i tempi di apertura e faremo una bella inaugurazione, di conseguenza vi aspettiamo numerosi, Elite Car fortunatamente si sta evolvendo, si sta ingrandendo, quindi grazie sicuramente a voi che ci seguite numerosi e ci venite a trovare ogni giorno. Perfetto, e naturalmente vi inviteremo anche all'inaugurazione e a vedere questo nuovo capannone, totalmente nuovo proprio per voi. E quindi ora parliamo di Volkswagen. Andiamo. Come promesso ora vi parliamo del mondo Volkswagen, quindi qui in Elite Car troverete sia prodotto aziendale ma principalmente nuovo. Iniziamo con Gamma App, possibilità di ogni colore allestimento, cambio automatico, robotizzato o anche cambio manuale, super accessoriate, vetture quindi nuove, vari allestimenti e colori. Come vedete il prezzo in sovrimpressione, con forte sconto con un aiuto da casa Volkswagen, quindi si chiama Premio Flat. Questa macchina la portate via a 8.200 euro in strada, compreso IPT e immatricolazione. Quindi da Gamma App ci spostiamo e vi parliamo di Polo, ormai la conoscete, è veramente una vettura che si conosce in tutto il mondo, una vettura che va benissimo, con motorizzazioni Euro 6, benzina e diesel, anche qui in questo caso possibilità di cambio automatico, DSG o anche cambio manuale ovviamente di primo impianto. Super accessoriate, anche in questo caso, ecco, molto importante su Gamma Polo in poi che andremo a vedere, App Connect, un sistema innovativo dove può praticamente permettervi di farvi interfacciare il vostro telefono e gestire le app sullo schermo della radio e anche la navigazione, quindi si autoaggiorna il vostro telefono, si autoaggiorna il navigatore della vostra vettura, importantissimo. Come vedete anche in Gamma Polo, un contributo flat molto importante, quindi una vettura del genere ve la portate via a 10.300 euro, compreso immatricolazione e IPT. Continuiamo a parlarvi di Volkswagen, ma parliamo di Golf, For My, la regina di questo segmento, chi non la conosce, vi ricordo trazione anteriore, ultimo restyling, quello che state vedendo, quindi hanno fatto un intervento importante sui fari, ora tecnologia full LED, per quanto riguarda invece l'impianto radio, è un nuovo software piatto, quindi veramente un design eccezionale. Consumi ridotti, varie possibilità per quanto riguarda benzina, ovviamente motorizzazione benzina e diesel, Euro 6, automatica DSG con un cambio velocissimo, a un prezzo straordinario, come potete vedere in sovrimpressioni, da un prezzo di destino di partenza, con contributo flat Volkswagen, la portate via a partire da 16.300 euro, compreso immatricolazione e IPT. Restiamo in gamma Golf, vi parliamo del modello Sport Van, quindi una vettura veramente molto adatta per famiglie, con un'abitabilità eccezionale, un vano bagagli straordinario, quindi una vettura anche in questo caso con trazione anteriore, con possibilità anche di cambio automatico DSG, motorizzazione rigorosamente sempre Euro 6, vi ricordo su tutta la gamma sempre supervalutazione del vostro usato, anche rottamazione perché no, tassi di interesse agevolato per quanto riguarda finanziamenti e leasing, con campagne Volkswagen ufficiali, quindi ad un eccezionale prezzo di 15.800 euro, compreso immatricolazione e IPT. Continuiamo a parlarvi di Golf, però come vedete Golf si sviluppa anche nel modello Station Wagon, con denominazione Golf Variant, anche in questo caso vettura nuova vi ricordo, sempre compreso due anni di garanzia, ma anche possibilità di estensione di garanzia con un piccolo importo aggiuntivo. Per quanto riguarda la disponibilità, vari colori allestimenti, cambio manuale, cambio automatico, DSG anche in questo caso, consumi ridottissimi, una vettura veramente adatta per famiglia, perché ha una capacità interna straordinaria. Vetture nuove vi ricordo con contributo flat Volkswagen ufficiale a 17.600 euro. Ed ora continuiamo con gamma Passat, disponibile in NEDCAR, sempre vetture nuove vi ricordo, sia disponibile berlina che anche station wagon, come quella che state vivendo in questo momento, con ogni tipo di accessorio, da cambio automatico a doppia frizione in avanti. Detto questo vi ricordo vetture nuove, a partire da 23.800 euro per gamma Passat, proseguendo col prodotto vi parlo di Tiguan, disponibile anche questo modello, con trazione anteriore o 4x4, super accessoriato, vari colori allestimenti, sempre vetture nuove, e ancora con contributo flat Volkswagen ufficiale, a 23.800 euro. Per quanto riguarda invece il resto della gamma Volkswagen, vi ricordo che abbiamo disponibilità anche di Turan, piuttosto che Maggiolino, e per quanto riguarda Turan, prezzi a partire da 20.300 euro. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per il tempo che ci avete concesso, e vi aspettiamo sempre numerosi in Elite Car, grazie a tutti. Anche rotamazione, perché no? Tassi di interesse agevolato, posso riprendere la tassi di interesse? Sempre restando in gamma, aspetta un attimo, sempre, sempre, aspetta, per dei pezzi ciuffo. Stiamo a parlarvi di GLA, Cross Sport Trover, se cotta, fanculo, andavo così bene fino adesso, ogni allestimento, quindi, cazzo non riesco a farla questa, non riesco a farla. Grazie a tutti.